Udazi sta male ma non vuole dirlo perché siamo in 11 ti vedo bella ragazzi eccolo bella 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 Bona, bona, bona! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Bona, bona! Bona, bona! Sì, sì! Mettro! Guiti a vinta è un'informa però... Bravo, bravo! Guiti a metterlo! Guiti a metterlo! Vieni, vieni! Bravo, Nagras! Bravo, bravo! Bravi, bravi, bravi! Oh, taghi! Oh, che fortuna! It's old goal! Orcholisa! Come, 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 come! bravo Giacca bravo Giacca bravo bravo Giacca 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 sembra giovane ma non è giovane ma è Douglas per metterci un po' di bravo bravo noo Troppo! Pronto! Questa non è gravata! Dai, grazie! È bravissimo! Ci sono suoi! Ci sono suoi! No, è troppo difficile! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Ascente! Rieschiamo un cazzo, eh! Dai, dai! Bravo, Douglas! Giadi, roba tua! Ah, no! Bravo, Antonio! Buon, buon! 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 Allora, abbiamo dato quello che avevamo. Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che io sono una meraviglia! Sì, sì, sì! È la nostra stazione con Dio! Buon! 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 Sembra Ibe! Buon! Buon! Ah, eh! Ma che non ha filmato, ragazzi! Cosa è la classe? Ah, eh! In generale non so cosa ha fatto la film, ma deve modificare? No! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wow! Oh!